Noi avevamo denunciato al momento della riapertura dell'anno scolastico che in questa occasione, in assenza di una programmazione della governance da parte della Giunta Lenta e della nuova dirigenza tua, noi avremmo avuto diverse difficoltà. Stentavo e stentavamo come gruppo a credere ai racconti dei pendolari, degli studenti, dei lavoratori e abbiamo dovuto constatare anche con i video denuncia che ci sono stati inoltrati, e sono davvero numerosi, che i trasporti oggi sono nel caos in questa regione. C'erano problemi ovviamente anche nel passato, ma mai di questa portata. Il fatto di non aver sopperito, mettendo a disposizione dell'utenza i tanti, le centinaia di automezzi fermi, ha condotto questa regione nel caos più totale. Saltano le corse in ogni luogo, ci sono denunce, esposti, autobus fatiscenti, si fermano e i pendolari, i lavoratori, gli studenti stessi che pagano anche abbonamenti annuali sono sostanzialmente privi di servizio. Autobus dove ci piove dentro, dove i bocchettoni sprigionano aria calda, anche molto più del necessario, e saltano le tante corse cosiddette bis che dovrebbero appunto sopperire alla riapertura dell'anno scolastico alla domanda dell'utenza. È una situazione inaccettabile, abbiamo più volte sottoposto all'attenzione della Giunta, fatto interpellanze, ma se continua così faremo anche gli esposti.